Ciao a tutti, dai tiziano male in pasta Guardate qua, guardate che bello Allora, una grafica tutta per me Una grafica fatta da, veramente, con tanto passione Tiziano mazzotta, Ford Glowger, tiziano male in pasta Guardate qua Per questo devo ringraziare Altamedia Che ha fatto questa meravigliosa grafica Tutta per me, veramente, io non ho fatto nulla Ho solo, ho solo ritirato questa bellissima grafica La cazzone Allora, grazie Giuliano Altavilla per aver realizzato questa grafica Veramente, e, fatta proprio per me Tiziano male in pasta E poi devo ringraziare Annalisa P Che mi ha spedito questi meravigliosi auguri Sono contentissima Contentissima per la grafica Contentissima per gli auguri Che siamo al terzo anno Di buona salute Di serenità Non voglio, non voglio dire altro Questo vorremmo della vita Un Natale meraviglioso Di salute e serenità E che dire Grazie a tutti Siamo sulla soglia dei 90.000 iscrizzi Si vede la gioia che ho Si vede Da tutti i cuori, proprio Veramente Sono veramente contenta Con questo io vi dico Tanti auguri di vero cuore Mi piace questa canzone Quindi, con questa Devo Penso a tante persone che non stanno bene Quindi, il mio pensiero è per loro Vorrei uno spiraglio di luce Per tutte quelle persone che Non hanno nessuno Non hanno un parente Non hanno Non hanno quella gioia di vivere Che in questo momento Tanti di noi abbiamo Quindi, un pensiero è per loro Ok Grazie a tutti di cuore Tanti auguri a tutti Veramente Da Tiziana Magli Impasta Un buon Natale sereno E ci vediamo Nei prossimi giorni Per fare tante belle ricette insieme Ciao a tutti di cuore Da Tiziana Magli Impasta